Knock Code è l'esclusiva funzione di LG che rende lo sblocco dello smartphone semplice, veloce e sicuro. Si tratta dell'evoluzione di Knock On, ovvero la funzione che permette di accendere e spegnere il display con un doppio tocco sullo schermo. Con Knock Code potrete creare una vostra sequenza di sblocco composta da un massimo di 8 tocchi in modo da preservare la vostra privacy grazie a oltre 85.000 combinazioni possibili. In questo modo non dovrete più digitare un PIN o tracciare una sequenza per sbloccare lo smartphone dopo aver acceso il display perché con Knock Code farete tutto in un colpo solo. Per configurare Knock Code è molto semplice. Basta accedere al menu delle impostazioni del display, selezionare blocco schermo, entrare nel menu seleziona il blocco dello schermo e scegliere Knock Code. A questo punto dovrete inserire la vostra sequenza personalizzata nei riquadri sullo schermo. Facciamo un esempio, 1, 2, 3 e 4. Inseriamola nuovamente e confermiamola. Ora dobbiamo inserire un PIN numerico in caso ci dimenticassimo il Knock Code. Ecco fatto, ora il Knock Code è pronto per essere usato. Quando il display è spento, per sbloccare lo smartphone dovremo toccare lo schermo usando la sequenza Knock Code. Proviamo. 1, 2, 3 e 4. Ecco qui. Come vedete, con una sola operazione abbiamo acceso e sbloccato lo smartphone. Possiamo usare Knock Code in qualunque parte dello schermo, in centro, in alto o in basso, ad esempio quando usiamo lo smartphone con una mano sola. Basta che rispettiamo la sequenza e lo smartphone LG la riconoscerà anche quando impostate una sequenza complessa di 8 tocchi. Knock Code è disponibile su un'ampia gamma di smartphone LG, LG G2 e EG Flex con l'aggiornamento a KitKat, G2 Mini, la nuova gamma L Series 3 come L90, L70 ed L40 e arriverà su tutti gli smartphone e i tablet LG che commercializzeremo nei prossimi mesi.